Cosa pensa degli accordi con i paesi di provenienza? Penso tutto il bene possibile, è l'unica soluzione secondo me al problema dei migranti. Non basta più la ridistribuzione, ormai gli arrivi sono talmente tanti che bisogna trovare un modo per ridurli in qualche maniera. E l'accordo con i paesi africani del Nord Africa è secondo me una cosa ben fatta, purché si facciano, perché vedo che invece ci sono un po' delle resistenze. Pensa che l'integrazione soprattutto nel lavoro sia importante? Certamente, mettiamo in regola queste persone, è un vantaggio nostro. Non c'è una politica vera, non la vedo. Né a sinistra né a destra vedo una politica seria su questo fatto. E secondo lei qual è la soluzione? Risolvere prima i nostri problemi. Sulla distribuzione fra regioni dei centri di accoglienza e sul prolungamento a 18 mesi, che cosa pensi? Allora, io sono dell'idea che comunque è una giusta idea. Parto dal presupposto che ciascuno è corretto che faccia la propria parte, sono persone che comunque sono bisognose. Se avessimo bisogno noi chiederemmo asilo e un po' di ascolto magari ad altre nazioni. E quindi è giusto che anche noi lo facciamo. Che la regione Marche accolga gli immigrati, io sono favorevole come qualsiasi altra regione. Ripeto, ognuno farà il suo ed è giusto unirci in questa causa comunque umanitaria. Considerato il calo demografico e la richiesta di mano d'opera, ritiene necessario l'ingresso di extracomunitari? Se specializzati sì. Se non sanno fare niente, non lo so, li dobbiamo prima formare, credo. Perché non stiano in giro a non fare nulla, insomma, a fare altre cose. Pensa che sia giusto chiaramente integrarli a livello lavorativo? Soprattutto, bisogna trovare strade per farli lavorare in maniera corretta, in maniera integrata e facendoli rispettare le regole che anche noi dobbiamo rispettare. Pensa che nel nostro paese ci sia sufficiente umanità verso gli immigrati e adeguata accoglienza? Forse no, meriterebbero un po' di più. Anche nei centri di accoglienza, secondo me, non sono trattati al meglio. Ma non ho una competenza precisa, quindi è un po' il mio pensiero. Che cosa pensa della situazione dell'immigrazione che stiamo vivendo tutti i giorni nei telegiornali? Posso dare un giudizio pessimo, è gestita malissimo e ci stanno invadendo il paese. Io sono dell'idea che vanno aiutati in casa loro, non qua da noi, perché sono sulle spalle di tutti noi italiani. Se non ci rendiamo conto, questa è la situazione.